Qua è il senso levante, guarda un po', un disastro, un disastro assoluto, un disastro assoluto. Madonna, io ho mai visto l'affare del genere dopo 40 anni. Sto cercando di arrivare a lavorare. La mia vista, l'affare del genere. Madonna. La macchina rovina va bene, mi zaga. Vai, bis. La macchina rovina. La macchina rovina.